Il padre, il figlio e lo spirito, il santo. Bisogna guardare avanti e questo guardare avanti superando anche le difficoltà del momento presente. Alcuni giorni fa abbiamo avuto per diversi giorni il sotto zero molto basso, il 10-11 gradi sotto zero. Anche questa mattina abbiamo trovato una bella gelata. Sono difficoltà che per chi vive nella roulotte, in un camper, non è facile affrontare. Quando abbiamo fatto l'inaugurazione del mio ristorante, quando era nuovo. Ecco qui il cammino del 1901 che abbiamo visto. L'inaugurazione del mio era bellissimo. L'abbiamo fatto nel 92 e poi avevamo una bella clientela, insomma, ecco. E la domenica era pieno pieno. E poi qui facevamo le pizze e lì facciamo la carne alla brace. E adesso non c'è rimasto più niente. E' stato distrutto. Le notizie, sono cominciate a passare, sono cominciate ad arrivare i soccorsi. Che devo dire sono stati molto celeri. Alla prossima! Grazie a tutti. Poi ci stanno un antipastino con frutti di mare e il salmone, poi ci abbiamo i pastellati, i filetti di baccalà e i fiori di zucca con mozzarella e alici. Poi non la voleva? Sì, 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 ci stanno, ci stanno, ok? Sapientino inglese, ce l'hai? Grazie a tutti i popoli delle sue meraviglie. Oggi è nato per noi si assalurere. Grazie a tutti i popoli delle sue meraviglie.